Seconda giornata intensa per BTM, l'evento nazionale dedicato al turismo che è in sinergia con Baipuglia, focalizzato in Fiera dell'Evante di Bari, professionisti del settore per costruire un futuro fatto di sempre crescente qualità e innovazione. Ieri un grandissimo afflusso, oltre le aspettative, abbiamo sfiorato le 14.000 presenze, oggi tanti appuntamenti e spero che anche oggi i dati ci diano conferma dell'ottimo lavoro fatto in questi giorni. Ma è imprescindibile parlare di sicurezza sul lavoro, anche in un settore come il turismo, ed è su questo che si è a lungo ragionato durante l'evento organizzato da Feder Terziario. I dati dicono che in Puglia gli infortuni nel settore turistico sono pari al 10%, due punti percentuali in più della media nazionale. Tradotto in numeri, significano 2.000 denunce annuali di infortunio tra servizi di alloggio e ristorazione, agenzie di viaggio, noleggio e intrattenimento. Ma non solo, per un settore così strategico la proposta è per un modello di formazione professionalizzante che privilegi la sicurezza, ma questo lo si può raggiungere mettendo le imprese nelle condizioni di farlo, con incentivi alla formazione sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Incentivi, aspettano meno importanti, che devono riguardare anche l'accesso al credito, agevolando misure come i mini PIA. Ultimo tassello, le infrastrutture. In Puglia si è detto, si è registrato, secondo dati Istat, il maggiore numero di residenti in comunico a valori di accessibilità molto bassi alla rete autostradale. 1.400.000 persone, oltre un terzo della popolazione pugliese, si trovano in questa condizione e non va meglio sul fronte della distribuzione percentuale dei comuni per cluster di appartenenza e di accessibilità a prossimità agli aeroporti. 47,5% dei comuni pugliesi rientra nella tipologia inaccessibile e distante e alla rete ferroviaria si scende al 40,5%, cosa che, per fortuna, non accade ma solo e soltanto con i porti. Penso che siano questi gli argomenti al momento più importanti. Ormai con BTM c'è una partnership consolidata con Fedel Terziario, è un evento che punta appunto allo sviluppo delle attività turistico-ricettive che sono un settore importantissimo anche per Fedel Terziario.